buongiorno a tutti questo praticamente è il quinto giorno per avere informazioni sul quarto giorno premete sul link che inserirò sotto perché abbiamo fatto uno speciale per il quarto giorno sotto troverete il link e niente oggi è proprio una giornata di merda io sono venuto soprattutto per recuperare il mio playstation war che l'ho acquistato e quindi sono molto felice di essere qui oggi abbiamo due biglietti non credo che faremo grandi cose perché comunque per un certo rave dobbiamo andarsene e niente anche quest'anno il link sta per volgere al termine magari ci può riservare ancora qualche sorpresa ieri il concerto di piscina d'arena un altro spettacolare successo come sempre eravamo praticamente a un metro e mezzo da Cristina i Jamboy pure si sono lasciati apprezzare è stato tutto molto carino fatto bene momenti emozionanti ne aspettiamo anche il nuovo album di Cristina di Uwets che molto probabilmente scaricheremo in modo pirata dalla mia no vabbè l'intenzione c'era di comprarlo lo vediamo magari certo non il cd che saprei neanche dove inserirlo quindi niente oggi non possiamo entrare in area games perché abbiamo solo due biglietti anche se secondo me sarà così poca gente che potrebbero fare oh vai ah qua la strontaggine è uguale a quella del anzi forse peggio del studio a gente molto irrispettosa molto irrispettosa al volante poi li incontri dentro le cose ma varie cose particolari approfitto di questa passeggiata per un paio di fatti veramente strani allora tipo qua nel bar se lasci la mancia ti guardano come sei scaccato sul bancone va dice che sono tristi qua a Lucca quindi loro non se l'aspettano non lo so è fatto strano ieri invece siamo andati a mangiare che era tardissimo un ottimo pub abbiamo mangiato dei panini con la carne ma proprio buoni buoni c'è degli hamburger è un cicciaro come diceva quello che ci ha consigliato ma proprio buoni 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 secondo me forse le dimensioni erano un po ridotte però tutto sommato il panino la carne era così buona che io penso che da noi l'avremmo speso la stessa città qui c'è un bar non lo so forse l'avessimo fermare so sta caffè non lo so dove sta Cristina Cristina ma sono te che devi fare colazione e niente tu non devo via niente ne fatti mangiare colazione no ah se è riuscito a fare colazione andiamo ok niente salsa caffè ma caffè o via caffè? no io non ho un attimo ma che passi qua diciamo vabbè noi in realtà la dobbiamo andare quindi vabbè niente quindi oggi andiamo ancora una volta dalla signora dalla quale tutti i giorni abbiamo preso il caffè è una signora di Napoli il caffè te lo fa a 2,40 euro vero? 2,20 euro 1,10 euro vabbè 1,10 euro per 2 ragiono sempre per 2 però cazzo è un caffè che vale la pena di essere bevuto è buono si vede si sente il corpo napoletano e poi le ragazze che stanno dentro sono simpatiche anche la signora abbastanza simpatica e niente questo è il mitico sottopassaggio che non so se vi ho fatto vedere altri giorni però questo è il passaggio che facciamo tutti i giorni da anni e per noi significa l'inizio del divertimento questo sottopassaggio in pratica ci porta direttamente fuori l'area games è molto comodo non so perché la gente chiude l'ombrello in effetti l'ombrello dobbiamo di nuovo riaprirlo c'è una sosta ci sono informato e niente dietro di me c'è il dario quello non posso non so se lo vedete il dario è saluto e niente siamo quasi pronti per ricominciare questa giornata scale? perché scale? scale? stiamo anche a salire no, saliamo di qua c'è più di un accesso questo mi sembra un attimo tranquillo e mo dobbiamo capire veramente come muovo ci muovo andiamo prima a prendere il caffè abbiamo un po' di tempo magari andiamo poi in bagno e niente volevo farvi vedere l'accesso perché non ve lo faccio mai vedere adesso facciamo un po' che i napoletani intanto stamattina non c'è proprio nessuno le aree sono quasi tutte ma io oggi c'è senza biglietti sì ma io pure oggi se mi chiedono vedi là ma tu io ti chiedo non tengo biglietti cioè che senso ha mettere due fili uno senza biglietti uno con biglietti la roba cioè si vede più tempo su quello che c'è biglietti alla fine nemmeno te lo controllo nel biglietti è qualcosa che non abbiamo capito peccato che oggi piove non vi posso far vedere quanto sono belle le mura però rucca è bella anche con la pioggia e niente certo l'obiettivo è non farci proprio una cosa e soprattutto non bagnare il VR ovviamente come ci si aspettava quasi nessun cosplay oggi è una giornata un po' triste dal punto di vista di lucca comics e games e niente in effetti se fosse stata più attiva forse non avrei fatto questo video c'è proprio la merda a terra però meglio che cammino tutte queste foglie fanno una melma in un'area games probabilmente perché è l'area più protetta ho fatto un patto un patto sbagliato sono in testa ogni tanto mi devo fermare per capire se c'è ancora gente che bella che è il look ieri ho fatto la foto a un cartello di vendesi non si può mai sapere in futuro non so perché non è solo il discorso dei fumetti in questo posto mi piace mi sento in qualche modo legato vabbè e io staccherei qua per evitare no mi sai che non si può entrare chiudo qui ci hanno fregato anche oggi